La parrocchia di Santa Lucia si sta preparando per la festa della sua vergine martire che si terrà il 13 dicembre. Il programma della festa parte da giorno 10 al 12 dicembre con il triduo, con la recita del Santo Rosario e della coroncina Santa Lucia per finire con la Santa Messa. Giorno 13 ci saranno cinque messe a scandire la giornata a partire dalle ore 8 e 30, 9 e 30, 11 e 30 presieduta dal vescovo Mario Russotto, 16 e 30 e l'ultima alle ore 18 presieduta dal vicario generale Onofrio Castelli. Grande è la devozione dei nisseni verso Santa Lucia, questa martire siracusana. Io per esperienza sono stato qui per molti anni e ogni anno ho visto crescere sempre più la devozione verso questa santa. Ovviamente non possiamo fare oggi quelle cose che abbiamo fatto gli altri anni come la benedizione e la distribuzione della cuccia. A causa della pandemia dobbiamo rispettare certe regole, certe direttive. Perché noi veneriamo Santa Lucia? La risposta è ben presto data. Il nome Lucia richiama la luce degli occhi e tutti ad iniziare da me abbiamo il bisogno di invocare questa santa per la protezione sulla vista degli occhi.